eccomi ragazzi sono tornato sono tornato a roma sono come vedete al circuito tor vergata sto provando sto testando su strada i prodotti della shepard e posso dire che sta funzionando alla grande saluto marco bonacin prima che mi dimentico sto ragazzo mi ha seguito in tutte le mie dieci scalate sull'etna mi ha chiesto di salutarlo ho dimenticato di salutarlo quindi marco ti saluto adesso torniamo a noi ragazzi quindi questo prodotto è un buon prodotto io ho un telefonino notto plus quindi un telefonino abbastanza grande e questa è abbastanza grande però esistono quelle più piccoli che sono molto più pratici a me i difetti che dà e magari quando mi alzo sui pedali tocca qua il cellulare però non si è sganciato ragazzi io ho fatto via prenestina via borghesiana e via casilina e chi è di roma conosce bene che sono strade piene di buche e posso dire che questo prodotto sta funzionando alla grande ragazzi non ho tempo per allenarmi perché sono finite le ferie quindi mi allenerò sporadicamente noi come al solito ci vediamo al prossimo video e seguitemi mi raccomando perché qua tra un po farò la 24 ore ciao